Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Audio Storie in italiano del canale All You Can Italy. Oggi vorrei presentarvi un'autrice molto conosciuta e amata in Italia, Susanna Tamaro. Nata a Trieste nel 1957, la Tamaro è una scrittrice italiana vincitrice della prima edizione del premio Strega per ragazze e ragazzi nella categoria superiore ai sei anni, quindi rivolta ai piccoli lettori dai sei ai dieci anni. Vinse questo premio nel 2016 per la sua opera Salta Barth. È una lontana parente dello scrittore Italo Svevo, Diplomata in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha anche realizzato alcuni documentari per la RAI. Il suo esordio nella narrativa avvenne nel 1989 con il romanzo La testa fra le nuvole, seguito da Va dove ti porta il cuore, del 1994. Un romanzo epistolare che rappresenta il più grande successo di questa scrittrice. Accolto con freddezza da una parte della critica letteraria, ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo. Ed è proprio di questo romanzo che desidero parlarvi. Va dove ti porta il cuore è uno dei romanzi di più grande successo degli anni 90. È costituito dal diario che un'anziana donna, sentendosi prossima alla morte, scrive sotto forma di lettera indirizzata alla nipote lontana, ricostruendovi la propria vita e mescolando al racconto continue riflessioni. Il discorso narrativo si articola su due piani. Innanzitutto una successione di vicende, quindi l'infanzia e la giovinezza della donna, il matrimonio mortificante e poi la scoperta dell'amore vero e una relazione, quella con l'amante. Inoltre i rapporti difficili con la figlia nata proprio da quell'adulterio ed il legame ugualmente difficile con la nipote. Proprio per ricreare o ritornare ad un migliore rapporto con lei viene scritta questa lettera diario nella certezza che la giovane la leggerà dopo la morte della nonna. Ma tutti questi eventi non sono che il supporto per insegnamenti sulla vita e sui rapporti umani che la nonna desidera lasciare alla nipote lontana. Nel titolo stesso è contenuta la saggezza di tutto il libro, ripresa appunto nelle righe conclusive della lettera. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuto al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Vediamo insieme la trama di questo libro stupendo prima di leggerne un brevissimo estratto. La protagonista è Olga, una signora anziana appartenente alla borghesia triestina. Olga, dopo un malore, decide di scrivere una lunga lettera a sua nipote, che si chiama Marta, e che è da poco partita per l'America. Il medico, infatti, ha fatto capire ad Olga, dopo il malore, che alla donna non rimane più molto tempo da vivere e che anzi sarebbe meglio per lei se si trasferisse in una casa di cura. Ma Olga gli risponde risoluta, preferisco cadere a faccia in giù fra le zucchine del mio orto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto in una stanza dalle pareti bianche. Olga decide di non avvertire Marta di quello che le è accaduto per non rovinarle il soggiorno, ma inizia a scriverle una lettera molto lunga. Questa lettera, racconto, parte proprio dalla rievocazione del rapporto con Marta, che inizialmente era stato affettuoso, ma che era andato poi rovinandosi con l'arrivo dell'adolescenza della ragazza. In questa parte si racconta di come Olga abbia letto da bambina a Marta il piccolo principe. E Marta abbia voluto una rosa tutta per sé e un cane, Bok. Riguardando quella rosa e con la compagnia di quel cane ormai grande, ora Olga rievoca le fasi della sua vita e decide così di svelare a Marta tutti i suoi segreti più nascosti. Praticamente aprendole il cuore come ultimo gesto di amore prima di andarsene. In realtà è un regalo, non solo per la nipote ma anche per sé stessa. Dopo la descrizione del rapporto con la nipote Marta il libro passa a parlare del rapporto molto più conflittuale che Olga aveva avuto con sua figlia Ilaria, madre di Marta, morta purtroppo quando la bimba era molto piccola. Ilaria ha avuto Marta a seguito di un'avventura con un uomo che poi non ha mai più rivisto. Le sfortune per Ilaria non finiscono, infatti ella cade anche nella truffa di un finto medico. Ilaria perde la casa che i genitori le avevano regalato e continua così a cadenze regolari a chiedere soldi alla madre. Olga si dimostra molto rigida nei confronti della figlia anche se finisce per cedere a tante delle sue richieste. Per giustificare il suo modo rigido di essere madre Olga inizia a raccontare a Marta la storia della sua vita sin dall'infanzia. Infanzia che è stata vissuta in una famiglia benestante ma piuttosto chiusa di vedute e che aveva soffocato ogni desiderio della bambina come ad esempio quello di studiare entomologia. La donna identifica appunto il momento della fine della sua infanzia con quello in cui le dissero che il suo amato cane se n'era andato perché stanco dei suoi dispetti mentre invece era morto. Fin da piccola Olga è stata avviata alla strada di un buon matrimonio borghese come era importante fare una volta e proprio per questo quando aveva più o meno vent'anni suo padre le aveva presentato Augusto ben più grande di lei e Giavedovo. I due si erano comunque sposati ed erano andati a vivere insieme ed anche se il rapporto all'inizio sembrava andare bene con il passare del tempo Augusto si dimostra sempre più monotono e distante da Olga che inizia a soffrire di una forte depressione proprio per curare questo suo male sceglie di fare un soggiorno in provincia di Bologna in alcune terme le terme di Porretta ed è proprio in questa occasione che incontra Ernesto un giovane e affascinante medico con il quale vive quella che sarà la sua unica vera storia d'amore dalla quale verrà concepita e nascerà anche Ilaria con Ernesto Olga si sente per la prima volta viva e felice e scrive infatti sai come si comportano le piante quando non le adnaffi per qualche giorno le foglie diventano molli invece di levarsi verso la luce cascano in basso come le orecchie di un coniglio depresso ecco la mia vita negli anni precedenti era stata proprio simile a quella di una pianta senza acqua e questo è proprio il primo segreto che Olga nella sua lunga lettera confessa alla nipote il segreto che Augusto non era il vero padre di sua madre c'è anche da dire che lo stesso Augusto aveva avuto un presentimento riguardo a questo tradimento anche se non ne aveva mai fatto parola se non nel momento in cui in punto di morte guardando le mani di Ilaria le disse così non ce l'ha nessuno nella mia famiglia il soggiorno appunto alle terme di Porretta è una parentesi felice e leggera per Olga ma finisce presto e ha come conseguenza che i due amanti devono dividersi ed Olga torna a Trieste dal marito i due amanti riusciranno a continuare a vedersi per un certo periodo anche dopo la nascita della bambina sempre naturalmente di nascosto Olga ama profondamente la bambina che le dà una nuova ragione di vita ma quando Ilaria ha 4 anni Ernesto l'amante di Olga muore in un incidente stradale ed Olga lo scoprirà solo dopo mesi la donna cade allora in un profondo sconforto e in questo momento inizia anche un progressivo distacco allontanamento dalla figlia che nonostante i successivi tentativi di riavvicinamento arriverà ad essere un aperto conflitto nel corso degli anni tanto che ormai grande Ilaria rinfaccia alla madre di non essere mai riuscita a volerle bene un giorno Ilaria va insieme alla figlia Marta ancora bambina a chiedere soldi alla madre facendole visita solo a questo scopo la madre rifiuta e da questo rifiuto ne nasce un litugio molto acceso Ilaria provoca provoca Olga le chiede come fa ad essere sempre così così dura così integerrima come fa se la sua vita è stata sempre così perfetta come vuol far credere all'esterno Olga allora in un momento di cieca rabbia finisce con il rivelare con il farsi scappare di fronte alla figlia beh il fatto che Augusto non fosse il suo vero padre Ilaria sconvolta scappa di corsa via con la figlia sale in macchina e per l'agitazione provoca un incidente stradale nel quale muore Marta invece si salva e va a vivere con la nonna a questo punto si scopre quindi il secondo grande segreto che Olga confessa alla nipote quello di essere stata lei la causa o una parte di colpa della morte della madre Ilaria le ultime pagine della lettera sono occupate dal racconto della visita nella soffitta della casa dove Olga non entrava da anni e nella quale finisce per trovare molti oggetti che aveva dimenticato va dove ti porta il cuore è un romanzo epistolare che sembra quasi essere un po' un testamento personale il testamento di Olga che in una delle frasi più belle dice questa lettera avrei dovuto scriverla a tua madre invece l'ho scritta a te se non l'avessi scritta per niente allora sì che la mia vita sarebbe stata davvero un fallimento fare errori è naturale andarsene senza averli compresi vanifica il senso di una vita di questo stupendo romanzo io desidero leggervi un brevissimo estratto 16 dicembre questa notte è caduta la neve appena mi sono svegliata ho visto tutto il giardino bianco book correva sul prato come pazzo saltava baiava prendeva un ramo in bocca e lo lanciava in aria più tardi è venuta a trovarmi la signora razman abbiamo bevuto un caffè e mi ha invitato a trascorrere la sela di natale assieme cosa fa tutto il tempo mi ha domandato prima di andarsene ho sollevato le spalle niente le ho risposto un po' guardo la televisione un po' di te non mi chiede mai niente gira intorno all'aggrumento con discrezione ma dal tono della sua voce capisco che ti considera un'ingrata i giovani dice spesso nel mezzo di un discorso non hanno cuore non hanno più il rispetto che avevano una volta per non farla andare oltre annuisco dentro di me però sono convinta che il cuore sia lo stesso di sempre c'è solo meno ipocrisia tutto qui i giovani non sono naturalmente egoisti così come i vecchi non sono naturalmente saggi comprensione e superficialità non appartengono agli anni ma al cammino che ognuno percorre da qualche parte che non ricordo non molto tempo fa ho letto un moto degli indiani d'america che diceva prima di giudicare una persona cammina per tre lune nei suoi mocassini mi è piaciuto talmente che per non dimenticarlo l'ho scritto sul blocnotes vicino al telefono viste dall'esterno molte vite sembrano sbagliate irrazionali pazze finché si sta fuori è facile fraintendere le persone i loro rapporti soltanto da dentro soltanto camminando tre lune con i loro mocassini si possono comprendere le motivazioni i sentimenti ciò che fa agire una persona in un modo piuttosto che in un altro la comprensione nasce dall'umiltà non dall'orgoglio del sapere chissà se infilerai le mie partofole dopo aver letto questa storia spero di sì spero che ci abatterai a lungo da una stanza all'altra che farai più volte il giro del giardino dal noce al ciliegio dal ciliegio alla rosa dalla rosa a quegli antipatici pieni neri in fondo al prato lo spero non per elmosinare la tua pietà né per avere una soluzione postuma ma perché è necessario per te per il tuo futuro capire da dove si viene cosa c'è stato dietro di noi è il primo passo per poter andare avanti senza menzogna questa lettera avrei dovuto scriverla a tua madre invece l'ho scritta a te se non l'avessi scritta per niente allora sì che la mia esistenza sarebbe stata davvero un fallimento fare errori è naturale andarsene senza averli compresi panifica il senso di una vita le cose che ci accadono non sono mai fine a se stesse gratuite ogni incontro ogni piccolo evento recchiude in sé un significato la comprensione di se stessi nasce dalla disponibilità ad accoglierli dalla capacità in qualsiasi momento di cambiare direzione lasciare la pelle vecchia come le lucertole al cambio di stagione se quel giorno a quasi 40 anni non mi fosse venuta in mente la frase del mio quaderno di greco se lì non avessi messo un punto prima di andare di nuovo avanti avrei continuato a ripetere gli stessi sbagli che avevo fatto fino a quell'istante per scacciare il ricordo di Ernesto avrei potuto trovare un altro amante poi un altro e un altro ancora nella ricerca di una sua copia nel tentativo di ripetere quello che avevo già vissuto ne avrei provati a decine nessuno sarebbe stato uguale all'originale e sempre più insoddisfatta sarei andata avanti forse già vecchia e ridicola mi sarei contornata di giovinotti oppure avrei potuto odiare Augusto in fondo anche a causa della sua presenza mi era stato impossibile prendere decisioni più drastiche capisci trovare scorciatoi quando non si vuole guardare dentro se stessi è la cosa più facile al mondo una colpa esterna esiste sempre è necessario avere molto coraggio per accettare che la colpa o meglio la responsabilità appartiene a noi soltanto eppure te l'ho detto questo è l'unico modo per andare avanti se la vita è un percorso è un percorso che si svolge sempre in salita a 40 anni ho capito da dove devo partire capire dove devo arrivare è stato un processo lungo pieno di ostacoli ma appassionante sai adesso dalla televisione dai giornali mi capita di vedere di leggere tutto questo proliferare di santoni è pieno di gente che da un giorno all'altro si mette a seguire i loro dettami a me fa paura il dilagare di tutti questi maestri le vie che propugnano per trovare la pace in sé l'armonia universale sono le antenne di un grande smarrimento generale in fondo e neanche tanto in fondo siamo alla fine di un millennio anche se le date sono una pura convenzione intimorisce lo stesso tutti si aspettano che succeda qualcosa di tremendo vogliono essere pronti allora vanno dai santoni si iscrivono a scuole per trovare se stessi e dopo un mese di frequenza sono già imbevuti dell'arroganza che contraddistingue i profeti i falsi profeti che grande ennesima spaventosa menzogna l'unico maestro che esiste l'unico vero e credibile è la propria coscienza per trovarla bisogna stare in silenzio da soli e in silenzio bisogna stare sulla nuda terra nudi e senza nulla intorno come se si fosse già morti in principio non senti niente l'unica cosa che provi è terrore ma poi in fondo lontana cominci a sentire una voce è una voce tranquilla e forse all'inizio con la sua banalità ti irrita è strano quando ti aspetti di sentire le cose più grandi davanti a te e compaiono le piccole sono così piccoli e così ovvie che ti verrebbe da gridare ma come tutto qui se la vita ha un senso ti dirà la voce questo senso la morte tutte le altre cose vorticano solo intorno bella scoperta osserverai a questo punto bella macabra scoperta che si deve morire lo sa anche l'ultimo degli uomini è vero con il pensiero lo sappiamo tutti ma saperlo con il pensiero è una cosa saperlo con il cuore è un'altra completamente diversa quando tua madre si scagliava contro di me con la sua arroganza le dicevo mi fai male al cuore lei rideva non essere ridicola mi rispondeva il cuore è un muscolo se non corri non può far male tante volte ho provato a parlarle quando era ormai abbastanza grande per capire a spiegarle il percorso che mi aveva portato ad allontanarmi da lei è vero le dicevo a un certo punto della tua infanzia ti ho trascurata o ho avuto una grave malattia se avessi continuato a occuparmi di te da malata forse sarebbe stato peggio adesso sto bene le dicevo possiamo parlarne discutere ricominciare da capo lei non voleva saperne adesso sono io a stare male diceva e si rifiutava di parlare odiava la serenità che stavo raggiungendo faceva tutto il possibile per incrinarla per trascinarmi nei suoi piccoli inferni quotidiani aveva deciso che il suo stato era l'infelicità si era asserragliata in se stessa perché niente potesse offuscare l'idea che si era fatta della sua vita razionalmente certo diceva di voler essere felice ma in realtà nel profondo a 16 17 anni aveva già chiuso qualsiasi possibilità di cambiamento mentre io lentamente mi aprivo a una dimensione diversa lei stava lì immobile con le sue mani sulla testa e aspettava che le cose le cadessero sopra la mia nuova tranquillità la irritava quando vedeva i vangeli sul mio comodino diceva di cosa ti devi consolare quando è morto Augusto non ha neanche voluto venire al suo funerale negli ultimi anni era stato colpito da una urma non lieve di arteriosclerosi girava per casa parlando come un bambino e lei non lo sopportava cosa vuole questo signore gridava non appena lui ciabattando compariva sulla porta di una stanza come dopo la scomparsa di Ernesto così anche dopo la scomparsa di Augusto avevo cercato conforto nella religione da poco avevo conosciuto un gesuita tedesco aveva appena qualche anno più di me accortosi del mio disagio per le funzioni religiose dopo qualche incontro mi propose di vederci in un luogo diverso dalla chiesa siccome entrambi amavamo camminare decidemmo di fare delle passeggiate assieme veniva a prendermi tutti i mercoledì pomeriggio con indosso gli scarponi e un vecchio zaino la sua faccia mi piaceva molto aveva il volto scavato e serio di un uomo cresciuto fra i monti all'inizio il suo essere prete mi intimoriva ogni cosa che gli raccontavo gliela raccontavo a metà avevo paura di provocare scandalo di attirarmi condanne giudizi impietosi poi un giorno mentre ci riposavamo seduti su una pietra mi disse fa male a se stessa sa soltanto a se stessa da quel momento smesi di mentire gli aprì il cuore come dopo la scomparsa di ernesto non l'avevo fatto con nessun altro parlando e parlando molto presto mi dimenticai che avevo di fronte un uomo di chiesa contrariamente agli altri preti che avevo incontrato non conosceva parole di condanna e di consolazione tutto il dolciastro dei messaggi più scontati gli era estraneo c'era una specie di durezza in lui che a prima vista poteva sembrare respingente solo il dolore fa crescere diceva ma il dolore va preso di petto chi svicola o si compiange è destinato a perdere vincere perdere i termini guerreschi che impiegava servivano a descrivere una lotta silenziosa tutta interiore secondo lui il cuore dell'uomo era come la terra metà illuminato dal sole e metà in ombra neanche i santi avevano luce dappertutto per il semplice fatto che c'è il corpo diceva siamo comunque ombra siamo come le rane anfibi una parte di noi vive qua giù in basso e l'altra tende all'alto vivere è soltanto essere coscienti di questo saperlo lottare perché la luce non scompaia sopraffatta dall'ombra di fidi di chi è perfetto mi diceva di chi ha le soluzioni pronte in tasca di fidi di tutto tranne di quello che le dice il suo cuore io lo ascoltavo affascinata non avevo mai trovato nessuno che esprimesse così bene ciò che si agitava da tempo in me senza riuscire a venire fuori con le sue parole i miei pensieri prendevano una forma a un tratto c'era una via davanti percorrerla non mi sembrava più impossibile ogni tanto nello zaino portava qualche libro che gli era particolarmente caro quando ci fermavamo me ne leggeva dei passaggi con la sua voce chiara e severa assieme a lui ho scoperto le preghiere dei monaci russi l'orazione del cuore ho compreso passi del vangelo e della bibbia che fino allora mi erano sembrati oscuri in tutti gli anni passati dalla scomparsa di ernesto avevo sì fatto un cammino interiore ma era un cammino limitato alla conoscenza di me stessa in quel cammino a un certo punto mi ero trovata davanti a un muro sapevo che oltre quel muro la strada andava avanti più luminosa e più larga ma non sapevo come fare a superarlo un giorno durante un'acquazione improvviso ci riparammo nell'ingresso di una grotta come si fa ad avere fede gli chiesi là dentro non si fa viene lei ce l'ha già ma ma il suo orgoglio le impedisce di ammetterlo si pone troppe domande dove è semplice complica in realtà ha soltanto una paura tremenda si lascia andare e ciò che ha da venire verrà e questo era un brevissimo estratto del libro va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro spero che questa lettura vi sia piaciuta ma soprattutto che vi abbia incuriosito e messo voglia di leggere l'intero libro come sempre vi lascio in descrizione il link nel quale potete trovare il libro su Amazon ma anche l'audiolibro perché di questo meraviglioso capolavoro è stato fatto chiaramente un audiolibro ma anche un film quindi se avete voglia approfondite 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 io vi saluto vi ringrazio di averci seguito anche oggi vi do una veloce comunicazione di servizio i podcast di audio storie di italiano passano dal sabato per motivi tecnici al martedì quindi ci trovate o meglio ci ascoltate se volete ogni martedì e trovarci potete farlo su Spreca su Spotify su Audible insomma in tutte quante le più grandi piattaforme di podcast e di audio storie grazie ancora di essere stati con noi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì per una nuova audio storia di italiano il podcast di italiano che aiuta gli studenti di lingua italiana come lingua straniera ma perché no magari fa compagnia anche a tanti italiani che amiano le storie ciao e alla prossima grazie a tutti